Gruppo della maglia oro Alessandro Ballanna, ecco qua la posizione per Vigapunti, stante non durissima La prima delle due salite finali che conduce al puerto della Bonaigua, una scesa molto lunga, abbiamo letto circa 20 km con una pendenza media però per la verità non troppo impegnativa del 5,6% Uno dall'Italia e uno dalla Gran Bretagna, Enrico Gasparotto ha vinto il Giro della Romagna, quindi anche lui si inserisce Ieri secondo battuto da Paolini alla Placcia Esatto, ma devo dire con tutto rispetto per Gasparotto che ha vinto una volata a tre, ha battuto Reda, Francesco Reda La notizia forse più bella arriva dalla Gran Bretagna, prima tappa del Giro della Gran Bretagna Due grandi indicazioni che arrivano sia da Pettacchi che da Danilo Di Luca Danilo Di Luca ha fatto una gara tutta l'attacco, tanto per renderci l'idea è stato in fuga con altri 8 e sono stati presi a circa 10 km dal traguardo Poi Di Luca da solo è andato in fuga ed è stato ripreso all'ultimo giro Stoccata di Alessandro Pettacchi che torna dopo 5 mesi di squalifica al successo Quindi una vittoria certo al Giro della Gran Bretagna, non stiamo parlando né di Vuelta né di Tour de France o di Giro d'Italia Però dopo quello che è passato Alessandro credo che questa sia una grande notizia per secondo me il velocista più forte del mondo Mark Cavendish permettendo Assolutamente una bella notizia, il velocista più forte del mondo per i risultati che ha ottenuto è indiscutibile Negli ultimi anni Alessandro Pettacchi ha avuto diversi problemi, adesso forse li ha finalmente definitivamente risolti E credo che, posso dire che la corona di miglior velocista del mondo è vacante Perché Alessandro è stato costretto a lasciare la vacante e sono cresciuti tantissimo Bennati e Cavendish E' chiaro che i risultati sono tutti dalla parte di Pettacchi Che ha fatto gli ultimi anni di Pettacchi da quando è esploso è stato all'altezza di Cipollini Quindi assolutamente strepitoso Alessandro Pettacchi Però quando lui è stato costretto a lasciare il ring sono cresciuti dei pugili che hanno colpo la K.O Forse sono un po' troppo ultra, però io dico che il re è tornato, lui non era vacante Cioè lui è rimasto là, adesso... Beh vacante è suo malgrado Io auguro perché lì il bello è giusto che come è stato tra Cipollini e Pettacchi Certo l'ultimo Cipollini era ormai anziano quindi per forza di cosa Alessandro l'ha anche così battuto ripetutamente Ma adesso è anche giusto che ci sia un duello leale tra i Bennati, i Cavendish E tutti quelli che vogliono prendere lo scettro di Alessandro Penso che Alessandro non abbia assolutamente intenzione di lasciare questo titolo Intanto quello che dispiace è la vicenda Che è una vicenda non chiara, non bella Che ha macchiato la carriera di un atleta che secondo me non lo meritava Proprio per come è stata maturata Ricordiamoci che questa vicenda al Sabutamolo, il Ventolin La disciplina del tegocitismo l'aveva assolutamente scagionato Poi invece il TAS per un ricorso chiesto dalla procura antirapendelconi L'ha invece considerato colpevolo per aver fatto i troppi spruzzi di Ventolin In ogni caso lui è tornato come ci aveva lasciato Una caduta di un altro corridore della Liquigas Non ho capito come abbia fatto È scivolato praticamente da solo Ancora Agnoli, incredibile Ma vorrei rivederla perché O ha preso una macchia d'olio Inspiegabile È andato da solo Potrebbe essere probabilmente la strada sporca Sì perché è scivolato da solo Perché è proprio andato via Rivediamola, se la regia se la ripropone Sarebbe carino anche perché potremmo capire meglio Perché guarda che aveva già i pantaloncini strappati L'importante è che non si sia fatto male E si vede da come pedala che non si è fatto male Certo che è un momento bruttissimo Abbotta l'adrenalina e si riporta in gruppo Con la rabbia in corpo Per la doppia caduta nel giro di 3 km Peccato Valerio, davvero sfortunato Però insomma, adesso raddrizza il manubrio a pugni Però guarda, l'adrenalina gli ha dato un bel colpo Perché sta tornando sotto con facilità Con una pedalata molto brillante Significa che sta bene, come hai detto tu Peccato Stavi finendo Stavamo parlando di petacchi Insomma, comunque ci hai dato una bella notizia Così come bella notizia il successo al giro di Romagna Di un altro corridore come Enrico Gasparotto Che sta veramente molto bene Quindi insomma La lista di Franco Ballerini sta diventando sempre più imponente Praticamente ha in mano un nuovo almanacco del ciclismo A cura di Davide Cassani e Danilo Viganò Dove ci sono le schede un po' di tutti No, sta andando diciamo bene Io ho sentito anche recentemente Franco E' molto soddisfatto Quando c'è abbondanza non c'è di che lamentarsi Poi saprà come ha sempre saputo fare Creare le condizioni E scegliere gli uomini ideali Per poter essere protagonisti anche il 28 settembre E anche se la Lampre ha il leader della classifica generale E finora ha controllato la corsa in prima persona La squadra di Alessandro Ballan E' la stana di Alberto Contador Che prende in mano le redini dell'inseguimento 4 minuti e 25 secondi per Garate Escova, Kern, Jolie e Moncutie Sul gruppo della Maglia Oro Contador ieri ha dato qualche puntura di spillo Ai suoi rivali Forse oggi ci aspetta un finale ancora più importante E più interessante Con qualche attacco magari più deciso Da parte di Alberto Contador Anche se le pendenze delle due salite Che mancano a traguardo Non sono pendenze adattissime a lui Minispot Minanca perde contatto dal gruppo Per il ritmo imposto dai corridori della Astana E sono contento per la Lampre Perché diciamo che avevano bisogno Di un risultato di questo genere In casa Lampre La squadra diretta da Beppe Saronni Perché il giro di Francia Non era stato all'altezza delle attese Sicuramente La vuelta era cominciata tutta nel segno Dell'altra squadra italiana Splendida davvero la Liquigas Il successo nella crono squadra Pozzato leader Poi Bennati leader Poi la vittoria di Bettini Insomma è arrivata per la formazione della Lampre Una bella vittoria di tappa La maglia oro con Ballanna Un risultato che insomma fa bene a questa squadra Qua José Aedo è il velocista argentino Della CSC che si stacca Questo atleta tenetelo d'occhio Perché parlavamo di velocisti in precedenza È uno sprinter molto importante Nelle prossime tappe Potrebbe essere per Bennati Che ha già perso contatto Ma era programmato L'avete visto era con due compagni di squadra Quindi insomma si è staccato per scelta Quest'oggi in questo finale Per risparmiare energie Ed esserci protagonista Magari già domani Domani è una tappa molto dura 200 km Ci sono 4 gran prime della montagna Ma sono lontani dal traguardo E potremmo assistere veramente A un finale molto molto interessante Per i velocisti che tengono in salita Come Bennati e come Freire E come magari anche Valverde e Bettini Attenzione perché stanno talmente bene Che può succedere di tutto Nella tappa di domani Anche per questi due atleti E vedete quanti ragazzi adesso Quanti atleti si stiano staccando C'era anche Oscar Gatto Del Team Gerolsteiner Nelle retrovie del gruppo A perdere terreno È una salita pedalabile Che però costringe Insomma i corridori a esprimere Tanta potenza Tanta forza Per rimanere in gruppo E vedete quanti atleti Comincino a perdere contatto Ovviamente quelli più pesanti È Jeremy Hunt Che si sta staccando adesso Per la formazione Della Credia Gricol Eccoci qua sui corridori Che perdono contatto Via via Poco a poco E questo è un gruppetto Che si è formato Appunto già nelle retrovie Del plotone principale E Andreas Klöden Per quanto riguarda La Stana C'è anche Vajtkus Campione nazionale Lituano In terza posizione Non è certo Un fatto che depone A favore Diciamo così Del ritmo Imposto dalla Stana Dato che Vajtkus Ecco qua Silvan Chavanel Dato che Vajtkus Dicevo È un velocista Un corridore molto pesante Molto potente Che appunto Milita nella Stana E Non è certo la salita Il terreno su cui si esprime meglio Anche se È abbastanza Insomma In grado di difendersi Sugli strappi E sulle salite Pedalabili Come questa E lo sta facendo Quest'oggi Poi potrebbe staccarsi Magari In un secondo momento Osa Vicente Garcia Costa Che è caduto Nella prima parte Della tappa Sorride Saluta Vedete che ha il ginocchio Sinistro fasciato Anche Bindi Che ha svolto Una grande Porzione di lavoro In precedenza Altri corridori Che perdono contatto E chiaramente Chi non ha interesse A insomma Essere presente Questi è Wouter Weyland Il corridore Della Quick Step Che si stacca C'è anche Chi sorride C'è Stefan Schumacher Anche lui Si permette un sorriso Abbozza un saluto Stefan Schumacher Terzo ai campionati del mondo Vincitore delle due Cronometro del Tour de France Grande deluso Dei giochi olimpici Dove è venuto Clamorosamente a mancare Sia nella prova a cronometro Che nella prova in linea Dove addirittura Si è ritirato Eppure era considerato Uno dei grandi favoriti Per il comportamento Tenuto Alla Tour de France Dove con delle belle fughe Sembrava avesse proprio Preparato la gamba Per una grande olimpiade Invece Non è stato così E la Stana Che non ha potuto Disputare il Tour de France Che ha disputato Il Giro d'Italia E l'ha vinto Si ripropone Alla volta Correndo da squadra Leader Da squadra Faro Alberto Contador Come dice Johan Bruinel E secondo te Mi rivolgo a Piero Augusto Staggi Direttore di Tutto Bice E secondo te Come dice Bruinel Il corridore più forte Del mondo in questo momento Per le gare a tappe Io credo di sì Certo che Bruinel lo dice Perché deve vendere al meglio La propria merce Contador e merce preziosa Però a tutti gli effetti Mi sembra Vista l'età Visto il talento Visto quello che ha già fatto Visto come pedala E sicuramente L'atleta più Più forte Quello Con i quali dovranno fare conti Nei prossimi anni I cacciatori Dei grandi giri Trovo che quest'anno Il Tour de France Abbia Ha veramente fatto Un grave torto A questa ragazza Che aveva vinto L'anno scorso Il Tour de France Facendogli pagare Colpe non sue E escludendole In maniera ingiusta Lui e la stana E qui vediamo I cinque battistrada Eccoli qua Vedete Garate che non si è ancora mosso Potrebbe esserci Un suo attacco Attenti anche A David Moncutier Che è in ultima posizione Mentre vedete Escov Il russo Della Tinkov Credit System Che si trova lì Vicino In prima posizione In questo momento Escov È a 17 minuti E 5 secondi In classifica generale Dal leader Alessandro Ballan Questa inquadratura Da lontano Ci fa vedere Che per il momento C'è una certa armonia Ancora tra i fuggitivi Che sono a una trentina Di chilometri Dalla conclusione Di questa ottava Tappa della Vuelta E guardate Come sono conciati I pantaloncini Di Valerio Agnoli Dopo la doppia caduta E guardate Suo compagno Di sventura In queste cadute Già medicato Dal medico Della Vuelta in Spagna Il campione australiano Matthew Lloyd Non sono stati fortunati Adesso Soffrendo Stanno cercando Insomma Di tenere duro Fino alla fine Della tappa Abbiamo visto Carlos Sastre Ieri comunque Questo atleta Spagnolo Era lì Con i migliori E si conferma Un grande motore diesel Lui c'è sempre Non delude mai Magari Il picco Che ha avuto All'Alpe Duezza In carriera L'ha avuto una volta sola Però È un corridore Che c'è Nelle grandi corsi a tappe Certo Questo mi sembra evidente Perché C'è da Diversi anni Al fianco Dei migliori Corridori del mondo Gli ha serviti Fino all'ultimo giorno Alla grande Concludendo sempre In ogni caso Le grandi corse Con posizioni Onorevoli Non si è fatto mai Lasciare andare via Cioè andare alla deriva Lui ha sempre ottenuto Anche dei piazzamenti Nei primi dieci Importanti È un corridore Che può Sicuramente Combattere Fino alla fine Per questa maglia oro Anche se mi sembra Contador È più Apprezzato Anche come una squadra È più forte Eccoci su Davide Moncutier In carriera ha vinto due tappe Alla Tour de France Questi è Escov Il russo della Tinkov Eccoci su Garate Che ha vinto la maglia verde Al Giro d'Italia nel 2006 È stato campione spagnolo Nel 2005 Settimo al Giro d'Italia nel 2006 Decimo nel 2004 Quarto nel 2003 Quarto anche nel 2002 Eccoci è un'altra caduta Incredibile Veramente In salita Poi così frequenti Non le ho mai viste in salita Anche Cunico coinvolto Però è ripartito Ha dovuto mettere piede a terra Sì sì esatto Coinvolto nel senso Che ha messo piede a terra Ed è Davide Rebellin Davide Rebellin Il corridore Che forse è l'unico Che ma senza nessuna Grave conseguenza Insomma Riparte Vediamo cos'è successo No Non ce lo fanno vedere Sì ce lo fanno vedere Ma era già accaduto C'è un break Che sta arrivando Torniamo tra poco A seguire in diretta La Vuelta in Spagna Su Eurosport Va subiendo también Imanola Erbiti Que ha llenado ya Los bolsillos de bidones Y sube también por ahí Pavel Brut Ahí ya cambia la carretera De nuevo Como pueden ver Increíble lo de Matthew Lloyd Increíble Con las dos rodillas vendadas Todavía Le sale sangre Le cae sangre Por la pantorrilla derecha Y es el de la caída primera Antes de empezar la subida El que está a punto De entrar en el pelotón Lloraba en el momento De la caída Dice Magma la suerte No puedo tener Tiene que ir super dolorido Va a pasar una noche Seguramente de perros Pero tirando De gasta De fuerza Y de De todo lo que lleva dentro Está a punto De reintegrarse al pelotón Y de lo de Matthew Lloyd Bueno la verdad es que A mi es una de las cosas Que siempre me ha gustado De verdad De este deporte Que aquí cuando la gente se cae Lo único que piensa Es levantarse Y en tirar hacia adelante No Tanto cuento Que vemos en algunos En algunos deportes Seguro que aquí Hay cosas que se hacen mal Pero también hay otras Que son valores Que son interesantes De resaltar Ahí le tienen Efectivamente Lleno de sangre Con las cosas Que vemos por ahí Vaya punto honor Y un gran aplauso Efectivamente Para el corredor australiano Del conjunto Silence Lotto Y ahí Popois Como le está echando Esa mano Hombre claro Ya le ves llegar Y dices Oye Le tengo que echar una mano Una mano Que te quedan Si ya le han clavado Las banderillas Ya el picador Ahí ya Pobrecillo Que parece que Que mejor va así Uno cuando La verdad es que a veces Es increíble Te das unos leñazos Y lo lógico Es que está cobardes Lo lógico es que está cobardes Pero en este caso Eso demuestra Que este corredor Joy Es el campeón D'Australia Que vemos E Alessandro Insomma ha spiegato Che anche la dieta È stata importante Nel raggiungere Questi obiettivi In salita Perché in effetti È andato forte in salita Lui che è Sì un passista scalatore Che in salita Però si difende Ma ieri Ha fatto proprio in salita La grande impresa Una delle più belle imprese Della carriera Ovviamente Il Fiandre Resta Di un altro pianeta Perché quella È una vittoria straordinaria Marzio Bruseghin A proposito Di corridori della Lampre Lì nelle prime posizioni A proposito di corridori Che lottano E non cedono mai Che la fatica Grandissimo Marzio Terzo al Giro d'Italia Poi ha corso Il Tour de France In appoggio a Cunego E qui alla Vuelta Ancora Ha corso le Olimpiadi Non so in cuor suo Se veramente Questo giro Questa Vuelta L'ha dovuta fare Perché alla fine Comunque la Lampre Non aveva tantissimi corridori Quindi gli hanno chiesto Un sorpreso Adesso poi lì Chiederà anche il ballerino Chiamerà Lì Senti Marzio Una mano Innazionata Dovrai darcela E quindi Tra virgolette Li toccherà anche Magari fare Mondiali di Varese Un'annata incredibile Assolutamente Intanto Ci scrive un ascoltatore Che in qualche modo Ci rimprovera Di non avere parlato Abbastanza bene Di Di Luca Di Di Luca Non abbiamo parlato Abbastanza bene No Io parlo bene Di Di Luca Da sempre Credo di non poter Essere accusato Da questo punto di vista Oggi non ha vinto Ha vinto Ha vinto Petacchi Abbiamo parlato Abbiamo dato la notizia E ho detto Che sono stati protagonisti Di Luca E Petacchi Di Luca Perché è stato Lungamente in fuga In una fuga a 8 Ripresa a 10 km Danilo è andato via Da solo Ed è stato ripreso All'ultimo km Mentre proprio I nuovi uomini Della LPR Ballan Stavano impostando La prima volata Ricordiamo che questa Era la prima volata Non ha mai Io Alessandro L'ho sentito Tre giorni fa Non abbiamo mai provato I meccanismi Andremo proprio Questo giro di Gambetana Ci servirà Proprio anche per conoscerci E vedere A che punto siamo Sia io Che i miei compagni Devo dire che come Primo testa Non è stato Assolutamente Intanto Ballan È rientrato Abbiamo visto passare Karsten Krohn Che portava le borracce Ai compagni della CSC Bene ancora Bruseghine Lì Nelle prime posizioni Lo stacano vista Della Lampre Bravo Marzio Davvero Straordinaria La stagione di Bruseghine Per la Incredibile continuità Ragazzi Disputare Giro Tour E Vuelta È veramente Cosa Non da tutti Incredibile Quello che fa Marzio Bruseghine E qui vediamo Leandro Valverde Ieri ha perso Una cinquantina di secondi Nel confronto diretto Con Alberto Contador E Levi Leipheimer Che è secondo In classifica generale A un minuto Da Alessandro Ballan L'americano Terzo La Vuelta in Spagna Nel 2001 Terzo Al Tour de France Nel 2007 È un corridore Che zitto zitto È qui Per ottenere Un grande risultato Anche se Lui dice In appoggio Ad Alberto Contador Per ora Gli è davanti In classifica Certo Ci aspettano tappe Come quella Dell'alto dell'Angliru Le cui pendenze Si sposano Alla perfezione Con le caratteristiche Di Contador Direi come Il mento Di Foreman A un ganso Di Cassius Clay Se mi passate L'espressione Quindi È un po' più difficile Per Leipheimer Resistere A un grande A un grande Contador Però insomma Per ora è lì È un corridore Che ha già ottenuto Grandi risultati Nelle corsi a tappe E dagli americani Bisogna aspettarsi Sempre di tutto Tre minuti e mezzo Il vantaggio Intanto Dei cinque Batti strada Quindi una situazione Ancora In questo momento Favorevole Ai fuggitivi Bisogna vedere Con quanto Scollineranno Perché poi La salita finale È molto breve Diciamo che Dall'alto Della Bonaigua Al traguardo Mancano 19 chilometri Però ce ne sono Dieci di discesa Una discesa Abbastanza veloce E praticamente Sei di salita E poi Gli ultimi Quattro Insomma In cui Quel punto La situazione Sarà cristallizzata E difficilmente Potrà cambiare Modificarsi Eccoci sui Battistrada Da Jolie Moncoutier Kern Ovviamente Garate E Escov Eccolo qua Juan Manuel Garate I bordini Vedete Con i colori Della bandiera Di Spagna Sulle mani Che stanno a significare Che è stato Campione nazionale Spagnolo Juan Manuel Garate A proposito Di qui step E come in realtà Si terrà anche Il campione del mondo Paolo Bettini Oggi Gasparotto Battuto Francesco Reda In volata A giorni Dovrebbe arrivare La firma Di Francesco Reda Che passerà Dalla NGC Alla X-Tep Allora Visto che parli di mercato Ne approfitto Per dare una notizia Perché In vista Della prossima stagione La Nippo La squadra Che ha in Simone Mori E Lidio Rossi I suoi dirigenti Sta allestendo Davvero una formazione Molto competitiva Per il 2009 E sono stati Definiti Proprio in questi giorni I contratti Di Matteo Carrara E Santo Anzà Nei prossimi I prossimi giorni Dovrebbe essere Annunciato L'ingaggio Di un atleta Di primissimo piano Quindi Diciamo ancora Di chi si tratta C'è una trattativa In atto Ma insomma C'è un movimento Sul mercato Ne commentavamo Facciamo un concorso Cappelli Castagno Biondi E diciamo che È un corridore Che ha vinto Più di una corsa Negli ultimi tempi Punto Andiamo avanti Ma vediamo Vediamo Poi Insomma Il mercato L'abbiamo detto In questi giorni Si stanno definendo Tantissime cose Facciamo gli auguri Sono buone notizie Torna In gruppo Un tecnico Abile Bravo Competente Come Betta Martinelli E mi sembra fondamentale Assolutamente Giuseppe Martinelli Con Fabrizio Fabri E forse ci sarà Un altro direttore sportivo Insomma Di spessore Che sarà messo sotto controllo Grosso anche E beh ma Qui mi fai dire troppo No Si può ancora Era un buon velocista Va bene Va bene E vedremo Quello che succederà Allora E cominciano a scattare davanti Sebastien Jolie Si muove Escova Risponde Kern Garate in quarta posizione Moncutier in quinta Sta scattando Jolie Si volta Cerca di capire Se la sua azione Sta producendo dei risultati Mi sembra che gli altri Per ora rispondano bene E i due Che sulla carta Dovrebbero Ma usiamo il condizionare Perché tutto può succedere Avere qualcosa in più Nelle gambe Nel finale di questa tappa Cioè Moncutier e Garate Per ora restano Nelle ultime due posizioni Avete visto David Moncutier E Qua Manuel Garate Moncutier Maglia bianca e rossa Della Confidis Garate la questa E vede Escova che parte Il russo della Tinkov Credit System È partito E Garate Questa volta replica In prima persona Guardate l'agilità Di Moncutier In ultima posizione Sembra il meno brillante Per ora Kern Si sforza Si sforza In progressione Garate In agilità Si riporta Nella scia del russo Belli questi duelli Non ci sono scatti Poderosi Ma repliche In progressione Devono gestirsi E salvare la gamba E lo stanno facendo Molto bene Per ora I corridori Che si danno battaglia In testa Moncutier Rimasto tranquillo Fase di interlocutore Allora Minispot E allora amici sportivi Vi stiamo trasmettendo In diretta La ottava tappa Del giro di Spagna Da Andorra A Pladeberè Secondo arrivo In salita Per di più consecutivo Della sessantatresima Edizione Della Vuelta Una edizione Della Vuelta Per noi eccezionale Quattro vittorie In sette tappe La Liquigas Ha vinto la cronometro A squadra E poi E' stata la volta Di Daniele Bennati Poi del campione Del mondo Paolo Bettini E ieri Il trionfo Di Alessandro Ballana Tra l'altro Tre italiani Si sono passati La maglia di leader Prima Filippo Pozzato Dopo la cronometro A squadra E poi Daniele Bennati E adesso Proprio Alessandro Ballana Ballana che in precedenza Aveva perso contatto Dal gruppo dei migliori Si è riportato In coda A questo plotone Ci troviamo A 25 Una ventina di chilometri Ormai circa Dalla conclusione Di questa tappa Poco più di 20 chilometri Siamo Non lontani Dall'alto Del puerto Della Bonaigua Un'ascesa di 20 chilometri Di prima categoria E Ballana Dovrebbe essere ancora presente In questo gruppo Quindi si sta per ora Difendendo Sta difendendo La leadership Conquistata ieri Con quella lunghissima Fuga nella tormenta E l'arrivo di Andorra Il corridore Trevigiano Che proprio Recentemente È rivenduto papà Di una seconda Figlia Dopo Stella È stata la volta Di Azzurra E vive un momento Particolarmente felice Della sua carriera Bravo davvero Ad Alessandro Ballana E È lì In coda A questo gruppo Il gruppo dei migliori Della classifica generale Per ora Calma piatta Tra i grandi Della classifica In particolare Sastre Contatore Valverde Che non si danno battaglia C'è Cunego Che campeggia Intorno alla 25esima Posizione Vediamo se Andiamo a trovare Proprio Alessandro Ballana Non ho visto ancora La maglia oro Per ora C'è Loide No Deve aver perso nuovamente Contatto Almeno io Non l'ho visto La regia lo va a riprendere Ecco qua Il trenino Della lampre Con la maglia oro Di Alessandro Ballana Ma l'abbiamo detto Lui stesso Ieri ha detto Che domani Cercherò di rifiattare Un po' Ricordiamoci Che Ballana Ha fatto una grande impresa Ha faticato tanto E qui soprattutto Anche lui Come molti Per preparare il mondiale Insomma Non c'è bisogno Di giustificarlo È assolutamente evidente Che non può essere Il grande protagonista Della vuelta Per la classifica generale Anche se ha fatto Ieri Il grande numero E Direi Che possiamo Approfondire il tema Della lotta Tra Contador e Sastre E parlare del terzo Incomodo Leipimer Cloden di fatto Si è già staccato L'abbiamo tra l'altro Visto lavorare E quindi diciamo In casa In casa stana Ce n'è uno in meno Per la vittoria finale Ed è proprio il tedesco Andreas Cloden Ma come lo vedi Leipimer Leipimer Diciamo È la carta di riserva Di Bruinello Terrà lì Attaccato Il più possibile In caso di emergenza Perché in ogni caso Se Contador Non dovesse essere Brillante Nelle tappe più dure Nella tappa Dell'Angliru E quindi Mettere a rischio La vittoria finale Se Leipimer Invece mantiene La posizione Visto che è un grandissimo Cronomen Potrebbe anche Essere L'altra punta Da giocarsi Quindi cercherà Di fare corsa parallela Stare vicino Il più possibile Al capitano Disegnato Che chiaramente Contador Lo si vede Da come stanno correndo Ma non Bruinello In cor suo Non Tarpa le ali All'Americano 25 all'arrivo 3-0-4 Il vantaggio Allora Tra l'altro Stavo controllando Che questa volta È veramente incredibile Allora abbiamo Più del 50% Percentuale di vittoria Di tappa Perché sono 4 su 7 Poi abbiamo Il leader di tutte Le classifiche Perché Ballana È il leader Della generale Leader della montagna Leader della combinata E poi abbiamo Daniele Bennati Leader della classifica A punti Ci manca solo La classifica squadre Ma sarebbe chiedere troppo Che è cappeggiata Dalla Astana Veramente Un dominio totale E guardando La storia della Vuelta Allora Vabbè L'italiano che ha vestito Per più giorni La maglia oro È stato Angelo Conterno Per 18 giorni In maglia oro Nel 1956 Battaglin 13 giorni Nell'81 Marco Giovannetti 12 giorni Nel 1990 Francesco Moser 7 giorni In maglia oro Nel 1984 Poi Roberto Visentini Il grande Bresciano Nell'80 5 giorni In maglia oro Poi Felice Gimondi Beh allora si diceva Maglia Maria Per dire la verità Era la maglia gialla Adesso è diventata Maglia oro Per volere Degli sponsor Della Vuelta Comunque 4 giorni Per Gimondi E Baldato Nel 68 Gimondi Nel 96 Baldato E 3 giorni Per Fabrizio Guidi 1 nel 97 2 nel 98 E Daniele Bennati Che è stato Per due giorni In giallo Quest'anno E 1 lo scorso anno Poi Biagio Conte Danilo Di Luca Bruno Silviotti Michele Dancelli Luigi Sgarbozza Anche lui Roberto Pagnini Ettore Pastorelli Gianluca Pianegonda Filippo Pozzato E Alessandro Ballana Quest'anno Per un giorno In maglia oro Questi sono tutti gli italiani Che hanno vestito La maglia oro Nella storia Della Vuelta in Spagna Quindi insomma Abbiamo ottenuto Dei buoni risultati Noi nella storia Soprattutto negli anni Più recenti Sono arrivati Tanti successi di tappo Intanto vediamo Quello che accade In coda al gruppo Si staccano davvero In tanti E questo è Freire Che perde contatto Il corridore Cantabro Di Torre La Vega I bordini Iridati Sulla maglia Della Rabobanca Tre titoli mondiali Come soltanto Eddie Merckx Rick Van Stembergen E Alfredo Binda Anche lui Segue il record Dei record Eh sì Diverso Tra lui e Bettini Tra lui e Bettini È una bella lotta Perché se vince Bettini Tre consecutivi Non c'era mai riuscito nessuno Se vince Freire Quattro mondiali Mai nessuno E questo percorso A parte che i mondiali in Italia Gli portano bene Perché Freire Ne ha già vinti due Ha vinto due volte Ha vinto due volte a Verona Su tre titoli mondiali Tra l'altro le ultime due edizioni Dei mondiali in Italia 99 Verona 2004 Verona Adesso stiamo toccando Tutto il ferro possibile Nel 2008 a Varese E Freire Si sta preparando bene Mi sembra E lo vedo veramente brillante L'altro giorno Quando ha vinto Bettini Secondo Gilbert Terzo Valverde Quarto Freire Quinto Bennati E qui Io Spero che L'Italia non rinuncia A Bennati Perché potrebbe essere Il nostro Freire Per caratteristiche Si somigliano Veramente molto Per come tiene in salita Daniele Forse persino Meglio di Freire Meglio di Freire Sì Deve ancora Vincere tre mondiali No Però per come tiene in salita Sì Sarebbe peccato Rinunciare Perché la Spagna Lo porta Freire Perché noi dobbiamo portare Bennati Che è il nostro Freire Però È una bella domanda Ci vorrebbe Ci vorrebbe Ballerini Ci vorrebbe Ballerini Ricordo che ha lavorato Nella prima parte Della tappa Per Ballan E spero Che nella seconda parte Della vuelta Damiano Entri in gioco E magari Ci regali Un bel risultato Che potrebbe valergli La maglia azzura Perché con questa concorrenza Anche se Ballerini Ha sempre avuto Per Damiano Parole Molto belle Insomma Nessuno è sicuro Nessuno è sicuro E proprio per questa Grande Concorrenza Che si è venuta a creare Ed è bello Perché vuol dire Che la maglia azzurra Non ha Un Un grande appeal Ma di più In più questo mondiale È in Italia E sappiamo Quanto Varese Gli organizzatori Il presidente Amedeo Colombo Il direttore generale Gabriele Solam Tutti stanno lavorando Con grande passione A questo progetto Da tre anni In maniera Infaticabile Che sperano Nella grande ciliegina Quindi Sperano Una vittoria italiana E gli italiani Vogliono esserci Da Garzelli A Paolini A Gasparotto Le abbiamo citati tantissimi Intanto ci sta seguendo Marino Bartoletto Il collega Che mi manda Un messaggino D'appoggio E d'aiuto Su Bruseghina E non ha assolutamente Torto Bruseghina Non solo ha corso Girotture Vuelta Ma anche Olimpiade E forse Correre al mondiale Quindi Forse nessuno Come lui Ha corso così tanto Quindi Ringraziamo anche Per questa puntualizzazione Assolutamente Però ricordiamo Che il segno distintivo Di Marzio Bruseghina Che sono Il cappellino Con le orecchie Del ciucco Perché lui Alleva Come tutti sanno Oltre a Insomma Avere Qualche ettaro di vite Per produrre Prosecco Che lui chiama Amez Che in basco È una parola Benaugurante Vuol dire speranza Le orecchie di ciucco Che sono il simbolo Sono Il suo simbolo Distintivo Perché lui Li alleva Non perché Ha furia di lavorare Di tirare in testa Il gruppo Gli sono venute Le orecchie di ciucco È grande Grande Marzio È un atto Proprio Di ingiustizia Sull'asino Perché passa per animale Un gran faticatore Che è anche vero Ma un po' stupido Che è una sciocchezza Clamorosa Perché invece L'asino è un animale Molto intelligente Molto sensibile E quindi Bisogna anche un po' Sfattare Questa brutta leggenda In realtà L'asinello È un'immagine Molto dolce Molto bella Molto Molto rassicurante Che devo dire Che c'è un ritorno Non so se sia merito Di Marz Bruseghin Ma sento E vedo Grande attenzione Attorno a questo animale Questa quadruzione Molto 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 dolce Che Sta diventando Veramente un animale Di Non dico Di moda Perché non è neanche giusto Che ci siano animali Più o meno di moda Ma Beh ma è bellissima È bellissima La simbologia legata a Marzio Anche quel calice Senza la base Perché così lo devi bere per forza Prima di appoggiarlo È stupenda E poi Marzio è una persona particolarmente intelligente Quando ci parli insieme In realtà va sgridato perché vince poco Perché le conferenze stampa di Marzio Bruseghin sono una cosa spassosa Bella È una persona per bene Intelligente Sagace Riesce sempre a dire qualcosa di personale Mai banale Al Giro d'Italia Tu eri con noi Ci siamo divertiti Grandissimo È stato veramente un grande spettacolo E abbiamo fatto anche il tifo Perché lui riuscisse poi alla fine A coronare il suo sogno Per due secondi su Pellizzotti Terzo Sul podio del Giro d'Italia Marzio Bruseghin Per la prima volta nella carriera Grande Grande Marzio C'è un mini spot Torniamo tra pochissimo Davvero poche Troppo poche le vittorie di Marzio Bruseghin Nella sua carriera Perché ha vinto tre corse Le due cronometro del Giro d'Italia Cioè la cronoscalata a Biela lo scorso anno E quest'anno La cronometro da Pesaro a Urbino E poi il titolo italiano a cronometro Tra l'altro tutte e tre a cronometro Tu devi anche sapere Visto che parliamo di Bruseghin E dei suoi asili Che sono 24 per la precisione Ma ad esempio asili Ne ha ben 15 Anche al Cidecerato Presidente Del ciclismo professionistico Ma c'è un nostro grande collega Che è un inviato della stampa Giovanni Ceruti Che è presidente Dell'associazione in difesa degli altri Tanto è vero che lui è Il primo grande tivoso Di Marzio Bruseghin Intanto si stacca il terzo Della generale A un minuto e 21 secondi Silvan Chavaner Il francese Perde contatto Dalla gruppo dei migliori Grande forcing Della Euskaltella Euskadi E della Stana No no Ci hai dato un'altra Notizia curiosa Abbiamo parlato di Asini Quest'oggi E adesso però Attenzione Perché stanno per entrare in gioco I cavalli di razza Si da Asini a cavalli Ti vedo bene Eh si Stanno per entrare in gioco I cavalli di razza E mi sembra di vedere Proprio guarda Ne parlavamo Marzio Bruseghini In seconda posizione Agile agile Come direbbe Martini Bellino bellino Sta pedalando alla grande C'è Gesink Lì nelle primissime posizioni Attenzione Bel corridore Robert Gesink 22 anni Uno dei più grandi talenti Del ciclismo olandese Degli ultimi anni E soprattutto un grande scalatore Ha disputato una splendida Pariginizza Dove soltanto un grande Cadelevans Lo ha battuto Sull'arrivo Al Credo al Mont Ventoux Se non ricordo male In quella circostanza E Moncutier Intanto Eccolo qua inquadrato Davide Moncutier Il corridore francese Della Cofidis Che ha già vinto in carriera Due tappe Sulle strade Del Tour de France Rompe gli indugi Il Corridore transalpino E vedete però Guardate Bruseghini In seconda posizione Brillantissimo Nella scia degli uomini Delle Euskatelle Euskadi C'è Gesink in quarta posizione C'è Mi sembra molto brillante Lì davanti Per l'Euskatelle Igor Anton Ecco qua Moncutier 20 secondi di vantaggio Sui 4 più immediati inseguitori Ricordiamo la situazione Allora abbiamo All'attacco Davide Moncutier 20 secondi di vantaggio Su Nikita Eskov Russo della Think of Credit System Christophe Kerna Francese della Credit Agricole Sébastien Joly Francese della Française de Jo E Juan Manuel Garate Lo spagnolo Della Quick Step Il gruppo però adesso Sta forzando C'è stato un grande forcing Guardate come sono tutti In fila indiana Il ritmo è indiavolato E Bruseghini lì In seconda posizione La Lampre Davvero ieri dopo Alessandro Ballan Oggi ci presenta Una Bruseghini In ottima condizione Si mette in evidenza Abbiamo parlato Tanto a lungo di lui Non quanto meriterebbe Forse Ma sicuramente Sta pedalando Benissimo E ci fa ben sperare Per i mondiali Perché chiaramente Poi Siccome c'è tanta concorrenza E tutti si devono Mettere in evidenza Quindi Ma a Marzelli Cosa li facciamo fare Anche la cronometro Del mondiale? Non lo so La cronometro O facciamo un ingegnere Pinotti Con Paolo Savoldelli A proposito Paolo Savoldelli Ho quinziato L'altro giorno Ho quinziato Abbiamo abbondanza Anche di cronometro Ma Paolo Savoldelli Ha detto che smette Lui l'ha detto Però Non l'ha mai detto Non si sa mai Ma sai che lui Parla poco Si fa vedere poco Poi tac Spuntura Vediamo Vediamo Quello che succederà Ci stai dando una notizia Pier Su Savoldelli O sbaglio? No così In realtà sarebbe Un grande saluto L'ultimo grande saluto E il modo migliore Per Per ritirarsi Tutto può essere Sebastien Jolie Vede David Moncoutier Due francesi all'attacco Sulle strade della Vuelta Guarda Non me li ricordo Da non so quanto tempo In una grande tappa di montagna E non aggiungo altro Si Perché non mi va Di essere polemico Quest'oggi sono particolarmente allegro Ma no Siamo buoni Siamo buoni Via Dobbiamo tornare a un ciclismo Più leggero Eh si E i francesi all'attacco Alla Vuelta Se ce lo consentono Alberto Contador Mi vedo molto affaticato Non c'è neanche una goccia di sudore No Sembra che non sudi Attenzione Perché oggi La Stana Insomma sta facendo un forse C'è Valverde Con i suoi compagni Lì proprio A ruota degli uomini a Stana Abbiamo visto per un attimo È Davide Rebellini Anche lui che pedala qui Con i migliori in salita E Carlo Sastre Proprio Praticamente quasi a ruota di Rebellini Il vincitore dell'ultimo Tour de France Lui la sfinge La faccia sempre Lui vince Perde Si stacca Va in fuga C'è la sua faccia E così Assolutamente sì Anche quando ha vinto il Tour de France Gesti clamorosi di esultanza Non se ne sono visti Insomma Moncutia 11 secondi su Jolie A 1,47 il gruppo Stiamo per arrivare in vetta A questa interminabile ascesa 20 chilometri Puerto della Bonaigua Che è la cima Alberto Fernandez La vetta più alta della Vuelta in Spagna 2070 metri di altitudine Intitolata allo scalatore Che fu secondo la Vuelta nel 1984 E l'anno dopo Perì In un incidente stradale Jolie Pochi secondi di ritardo Poi vedete che arrivano Gli altri inseguitori Escov Kern E Garate No Garate non l'ho visto Addirittura sembrava Essersi staccato Chavanel Falle elastico Con il gruppo dei migliori Soffre ma stringe i denti Ammirevole davvero Il corridore francese Vincitore di una bella tappa All'ultimo Tour de France Prima vittoria di tappa Al Tour Dopo tanti tentativi In carriera per Sylvain Chavanel Campione di Francia A cronometro Corridore che ama Andare all'attacco E lo ha fatto anche Nel corso della Vuelta Ha provato a seguire Bettini Ma non ci è riuscito Qualche giorno fa E sempre Bruseghine Lì In seconda posizione 3 minuti e 29 Tra il gruppo E il trappello Di Alessandro Ballana Gruppo leader E il leader è ovviamente Alessandro Ballana Che ha la maglia oro Di leader della classifica generale E sentite i tifosi spagnoli Che incitano I corridori della Vuelta Espagna In questo caso Il francese David Moncutier 20 all'arrivo 20 all'arrivo Siamo ormai Praticamente Quasi in vetta E allora vi ricordo Il finale di questa tappa Prevede Dopo lo scollinamento Che avverrà tra circa un chilometro Per David Moncutier 10 chilometri di discesa E poi Subito dopo 6,2 chilometri di salita Quindi Per arrivare In vetta La salita Di Salardou Nau Aran E poi Altri 3 chilometri e mezzo Prima di giungere A Pladeberet Dove è posto Il traguardo 3 chilometri e mezzo Di leggerissima Discesa Di falso piano La sofferenza Di Silvan Chavanel Che stringe i denti Guardate Le Euskadi Sono veramente Indiavolati I corridori baschi Siamo sui Pirenei A casa loro E ovviamente Insistono Con grande Determinazione Gli uomini Delle Euskaltel Che hanno In Igor Anton E Michel Astarlosa Gli atleti Sulla carta In grado di fare meglio Quest'oggi Si stacca Perde terreno Sergio Paoligno Il portoghese Vice campione olimpico Ad Atene nel 2004 Corridore della Stana Forse sta rientrando Adesso Comunque un ritmo Veramente Forsennato Moncutier Non avrà vita facile Del resto Jolie non dovrebbe essere Lontanissimo Arriva la miraglia A Confidis Per ragguagliarlo Sul vantaggio Nei confronti del gruppo Mi piacciono Direttore Le tappe Dei grandi giri Di quest'anno Con tante fughe Che sono arrivate Al traguardo Al Tour de France Ben 10 Ieri abbiamo visto Ballana Splendido Oggi c'è Moncutier Che potrebbe farcela Non è detto Perché c'erano ancora Altri 6 km di salita E dietro Rinvengono forte Quindi forse oggi È un po' segnata È un po' segnata Però È successo tante volte Quest'anno E tatticamente Le squadre Dei leader Non riescono più Come in passato A chiudere su tutte le fughe Con uno schiocco di dita Ma Devono tutti gestirsi Molto bene Con il contagocce Insomma Non voglio lasciarmi andare A farci l'entusiasmo Perché non voglio Non dobbiamo L'abbiamo fatto troppe volte E ti invito alla prudenza Hai ragione Però di sicuro Diciamo che corrono meno Sembra da superuomini L'ho detto Sembra Che corrono un po' meno Da superuomini Questa è un'indicazione importante Quindi Dietro alle spalle I capitani Cercano di fare la corsa La loro corsa Lasciando anche qualcosa Agli altri Che magari osano E vanno Appunto A cercare sin dal mattino Il loro spazio Il loro varco Con questo adesso sarò smentito Glamorosamente Nelle prossime ore Senti Ci scrive Mirko da Pisa Dice Mi risulta che Rebellin Quest'anno vuole fare Classifica alla Vuelta No Però no Non mi sembra plausibile Deve preparare il mondiale Mi risulta che Rebellin Voglia togliersi Schiappol perché è lì davanti Sì sì Ma lui sta facendo un eser Tra l'altro Credo che all'ultima settimana Lui si ritirà anche Io l'ho sentito Dal suo ritorno da Pechino E l'intenzione era Quella di fare un gran lavoro Di fare un gran carico Di fatica E l'ultima settimana Tornare a casa Per poi Essere brillante Al campionato mondiale Davide Rebellin Vice campione olimpico Alle spalle di Samuel Sanchez Davvero peccato Per quella mezza bicicletta Di svantaggio Nei confronti dell'asturiano Che lo ha bruciato A Pechino In quell'arrivo Veramente Un finale Che ci ha lasciato Un po' di amaro in bocca Però ricordiamolo L'abbiamo detto L'argento e le Olimpiadi È un risultato Straordinario E tra l'altro Premia una carriera E in qualche modo La simboleggia anche Sì perché è un secondo Che però vale Questa volta Esatto Perché purtroppo L'abbiamo spesso Preso in giro No? L'eterno secondo Per i tantissimi Secondi posti Pensa che se solo Quei secondi Fossero tradotti In vittorie Rebellini sarebbe Uno dei più Plurivittoriosi Nella storia del ciclino Come vittorie di peso Sarebbe veramente Un omologo Di Paolo Bettini E invece Ha fatto veramente Un'incetta Di grandi secondi posti E sono d'accordo con te La medaglia d'argento È un po' È il suo giusto Riconoscimento Secondo Per uno niente Dopo al termine Di una gara esemplare Dove non si deve Rimproverare di nulla Perché alla fine Sanchez lo sapeva Anche lui Che era un pelo Più veloce Perché così Mamma Natura L'ha fatto Però questa volta È un secondo Che non gli lascia La mare in bocca È un secondo Veramente stacanovista Non si ferma mai Chapeau Davvero Ci togliamo Il cappello Di fronte A Davide Rebellin Scatenati Gli Euscaltele Euscal Davanti Ha perso contatto Avete visto Dal terzetto inseguitore Di Moncutier Lo spagnolo Garate E io Mi ero permesso di dire Che sulla carta Era il corridore In salita Più forte E invece Moncutier è partito E Garate si è staccato E c'erano Jolie Escove Kern Al suo inseguimento Con circa 25 secondi di vantaggio Strada ampia Vedete La discesa È abbastanza ripida Nell'ultima parte La prima parte La più favorevole Al gruppo Diciamo Perché dovrebbe Poter recuperare qualcosa Chiamiamolo gruppo Ma sono rimasti in pochi Veramente in pochi Perché ci sono ancora 20 25 corridori È già passato È già trascorso Un minuto e mezzo Un minuto e 35 Era quando Moncutier È transitato in vetta Brusegin sempre lì In seconda posizione Siamo alla porta Della Bonaigua Moncutier dunque Si è giudicato La cima Alberto Fernandez Il premio 1.42 1.42 Si veste Vedete il campione del mondo Paolo Bettini In coda Al trappello dei migliori Anche lui Pedala la grande Ha mancato Forse la borraccia Paolo Peccato per lui Mancano pochi chilometri Alla conclusione C'è un break Che sta arrivando Non andate via Siamo a 15 chilometri Dalla conclusione Dell'ottava tappa Secondo arrivo In salita Al comando David Moncutier Eccolo qua Il francese Che cerca di resistere Al ritorno del gruppo Gruppo Che ha inscenato Grazie Soprattutto agli uomini Delle Euskaltelle Euskadi Un inseguimento Forsennato Lungo l'ultima salita Grande selezione Tutti in fila indiana Sono rimasti Circa 30 corridori Con ovviamente I migliori Della classifica generale Eccezione fatta per la maglia oro Di Alessandro Ballano 1.42 Il vantaggio di Moncutier Sul gruppo Mentre nel mezzo Intercalati Ci sono gli ex compagni D'avventura di Moncutier Vale a dire Christophe Kerna Francese della Credia Gricol Sébastien Jolie Altro francese Della Française de Jo E il russo Della Think of Credit System Nikita Escoff Che hanno Circa 25 secondi Al rilevamento Sul gran premio Della montagna Del puerto Della Bonaigua Poi c'era Qua Manuel Garate Lo spagnolo Che però Ha perso contatto Nel finale Della salita Il corridore Della Quick Step E pertanto Insomma Sembra essere uscito Definitivamente di scena Per quanto riguarda La lotta Per il successo di tappa Paolo Bettini È il corridore Con la maglia di campione Del mondo Ovviamente Troppo facile Riconoscerlo In coda Al gruppo Dei migliori Della classifica generale E vedete Jolie Che è in discesa Guardate come pedala Con il massimo rapporto Sul filo degli 80 all'ora Ha raggiunto E adesso lo supera Anche addirittura Moncutier Che si è fatto un po' Sorprendere E ne perde la scia Deve dare tutto Per andare a riprendere Il suo connazionale Mi sembrava Pedalare Con un rapportino Ma in realtà Credo il 53 O il 54 11 Stava pedalando Sul filo degli 80 km Orari in discesa E qui Nelle discese pedalabili Bisogna spingere a tutta Non si accorge Che Moncutier Vedete Sfruttando la scia Adesso si riporta sotto E Insomma Non si è fatto sorprendere Se fosse stato cancellare Sarebbe stato più difficile Rientrare Ripensando L'Olimpiade Con Gili Con Gili Gli è andata meglio Incredibile Di Cancellara Attenzione Attenzione Per Varese 2008 Esatto Esatto Fabian Cancellara E non mi riferisco Solo alla cronometra No Diciamo che la cronometra Quasi Gliela do già Gliela assegni già Così a tavolino Gli altri Sulla fiducia Sulla fiducia Troppo forte Effettivamente Alle Olimpiadi Ha fatto un numero Impressionante E su quel falso piano Che segue L'ultima salita Che conduce Al traguardo Fa veramente paura Perché potrebbe ripetere Il numero della Sanremo Lo stiamo dicendo adesso Siamo al Al 7 di settembre Quindi insomma Speriamo che Ballerini Prenda le contromisure E che gli appiccichi Qualcuno alla ruota Ma proprio appiccicato Appiccicato Possibilmente attaccato Alla sella Ci vorrebbe Perché Vabbè ma queste cose Le sanno ovviamente Tutti i declici Il problema è che Anche se lo sai Quando ti piazza Un attacco Dopo 255 km A 60 km Allora in pianura E ti fai sorprendere Per mezzo secondo Diventa quasi impossibile Riprenderlo Quindi E quindi insomma Inutile che ne parliamo Speriamo Speriamo che gli azzurri Abbiamo dei grandissimi Corridori L'abbiamo detto La concorrenza è alta È tanta Perché Sono tanti atleti Di grande livello Di grande spessore Che possono fare bene Però Anche all'estero I campioni non mancano La Spagna è formidabile Cancellara sta benissimo E poi ci sono Altri atleti Che possono essere Protagonisti E pericolosi Insomma Quindi È un mondiale incerto Anche se abbiamo una squadra Di altissimo livello Con campioni Eccellenti Adesso però Appassioniamoci Più che al mondiale Anche se la Vuelta L'abbiamo detto È una corsa Che da quando è stata Spostata a settembre È divenuta Estremamente importante Seguita Proprio Perché Legata a doppio filo Con le vicende Dei campionati del mondo Seguiamo Quello che accade Perché A questo punto Diventa soprattutto Importante Capire quello che può Succedere in testa Alla tappa Perché Moncutier Ha ancora Un minuto e trentasette Ha perso pochissimo In discesa Sta per cominciare L'ultima salita Dovrebbe mancare Un chilometro Un chilometro e mezzo Per David Moncutier All'inizio Ecco qua È già arrivato Praticamente all'inizio Della salita finale Sei chilometri Duecentometri Poi gli ultimi Tre chilometri Praticamente pianeggianti Per arrivare al traguardo Siamo a Meno di dieci chilometri Della conclusione E Jolie Ha già perso Nuovamente contato Da David Moncutier Gambe dure dopo la discesa Vedete il portacolori Della Française de Jo Che non riesce a resistere All'azione più decisa Più da scalatore Di David Moncutier Che se ne va Uno e trentasette Sei chilometri di salita Tre di pianura Non è una dote Che lo rassicura Però il suo colpo di pedale È buono Può farcela David Moncutier A resistere Al ritorno del gruppo Non è facile Bisogna vedere Che cosa accade dietro Se i grandi Se Contador Sastre E soprattutto gli Euskadi Abbiamo visto Molto determinati Si daranno battaglia Sin dai primi metri Di questa salita Come è presumibile Potrebbe anche essere Riacciuffato Moncutier Che pure sta ben pedalando E vedete quello che accade Ci sono gli scatti In testa Al gruppo Dei compagni di Contador Quindi Alberto Contador Vuole attaccare Mi sembra abbastanza evidente Dovrebbe essere In seconda posizione Vediamo un corridore Della Xacobeo Galicia Momento importante Della Vuelta Potrebbe esserci Un attacco Di Alberto Contador Il leader della Stana Il trionfatore Del Giro d'Italia Immagini bellissime Stavo proprio Notando in precedenza Che la regia Della Vuelta È cresciuta E anche La qualità Delle immagini È migliore Proprio dal punto di vista Se fosse cinema Diremmo della fotografia Ecco qui Ecco qui Alberto Contador Pilotato da un accompagno Di squadra E Bruseghin Bruseghin in terza Quarta posizione Vediamo Valverde Anche lì dietro E Joachim Rodriguez C'è anche lui Contador Veramente saltella Sui pedali È Cloden Che gli scandisce Il ritmo E Bettini Ovviamente Che non ha interesse A tenere un ritmo Così forsennato Perde contatto Giustamente Sulle prime rampe Di questa salita 8 chilometri Alla conclusione La grinta Di Alberto Contador Pilotato da Andreas Cloden 1 minuto e 27 Di ritardo 8 chilometri Dalla traguardo Per il gruppetto Di Contador Che vuole fare Il diavolo a 4 Quest'oggi Perdono contatto Diversi corridori Vladimir Gustov L'Ucraino Della CSC Si stacca Vediamo Chi è presente Ancora in questo gruppo Sono rimasti davvero In pochi C'è Moschera In attorno alla quinta Sesta posizione Valverde Ha perso Forse qualche metro E vediamo anche Mi sembra di vedere Anche Leipimer Sì è lì Anche Levi Leipimer C'è Valverde Dovrebbe esserci Sastre Ma non lo vedo Vediamo Ha perso contatto Sastre E dovrebbe aver perso Contatto Carlo Sastre Non mi è sembrato Di vederlo Moncutier transita I 7 chilometri A circa 800 metri Di vantaggio Il francese A 7 chilometri Dalla conclusione È un buon vantaggio Ma dietro Stanno veramente Salendo forte E rischia di essere Spenta sul traguardo Quest'azione di Moncutier È un finale Veramente incerto Ecco qua Sastre Ecco qua Sastre La regia Si è accorta Dell'assenza di Carlos Sastre Lo va a prendere Il ritmo Forse nato Il forcing Degli uomini Di Contador Ha ammietuto Una vittima Eccellente Niente meno Che il vincitore Del Tour de France Carlos Sastre Ed è per quello Il ritmo Tolomiti E quest'oggi E quest'oggi La giornata Sicuramente dal punto di vista Meteorologico Lo vedete con i vostri occhi È nettamente migliore È in difficoltà Sastre Vedete che è passato Addirittura anche un Corridore della Formazione Della Quartetto Con il vincitore Del Tour de France Carlos Sastre Valverde invece oggi Brillante Guardate la pedalata Agile di Valverde Che saltella Come dice Sui pedali Per Augusto Staggi Ha uno stile Veramente unico Contador Un'agilità Una frequenza Di pedalata Incredibile A cronometro Si difende benissimo Più di tutti gli scalatori Che io ricordo E in salita Quando piazza Le sue accelerazioni Fa paura Oggi Sembra intenzionato A fare qualcosa Di importante Anche se questa salita È pedalabile Non è adatta Proprio alle sue Caratteristiche È di rapporto Però è importante Intanto Ha fatto fuori Carlo Sastre Ieri L'avevamo anche Un po' anticipato Che in questa Vuelta Probabilmente Sarebbe stato più Un duello Valverde Contador E sembra Che stia andando così Però credo Che sulle pendenze Molto più Aspre Contador Abbia il colpo Di pedale Migliore Rispetto Ad Alejandro Valverde Anche perché Poi questa è una tappa Con una salita Di rapporto E tappa Corta Si tappa Di 151 km Valverde Avete visto Con la sua Bicicletta Che ha i colori Della bandiera di Spagna Ricordo che Alejandro Valverde Anche se non indossa La maglia Tipica Gialla e rossa Del campione nazionale Spagnolo È il campione Di Spagna In carica Per una scelta Diciamo così Di fedeltà Allo sponsor Alla La Caisse de Parnia Ha preferito Non indossare La maglia Ha solo dei bordini Molto più spessi Sulle maniche Della sua maglia Il corridore Il corridore Della Rabobank Che sta Riportandosi Sull'Evilay Pimer Seguito Credo Non mi sembra Valverde È un compagno Di Valverde Alla Caisse de Parnia Potrebbe essere Joachim Rodriguez Che in salita Va veramente forte Dovrebbe essere lui Vediamo Eccoci qua Con Valverde Che è in terza posizione Al fianco di Contador C'è Bruseguin Ed è rientrato adesso Carlo Sastre Si è riportato sotto Sastre Vedi che è un diesel Lui Non Non si rende attenzione Perché adesso Lei Pimer Ha staccato Contador E attenzione 5 km al traguardo Intanto Parte ancora una volta Il cronometro E verifichiamo Adesso il vantaggio Di Davide Moncutier Aveva 1 minuto e 20 Un insetto Sulla telecamera Allora Vuole vedere anche lui Sta tenendo alla grande Moncutier Perché ha perso 20 secondi Nei primi 3 km di salita E direi che il ritmo è buono E vedete Sastre Perde di nuovo Qualche metro Fa l'elastico Quando ci sono le accelerazioni Mi manca qualcosa Non è la prima volta Che in carriera Vedo fare queste cose A Carlo Sastre È un diesel L'abbiamo detto Un corridore che tiene duro Che non ha le accelerazioni Cambi di ritmo Alpe Duezza Al Tour Quest'anno a parte E dove peraltro Ha fatto uno scatto solo E poi dopo È andato su con il suo passo Però al termine di una mappa La CFC È una corsa A manenza Esatto Assolutamente E adesso È lì che stringe i denti Tiene duro Cerca di resistere Alla forcing Della formazione Accelerazione di Arroyo Arroyo con Leipimer Che lo va a prendere Immediatamente Arroyo che in classifica È a 5 minuti e 24 secondi È una delle carte in più Della Caisse de Parnia Per la classifica E Leipimer che è secondo In classifica A un minuto Immediatamente E con facilità Devo dire Si riporta Nella scia Del portacolori Della Caisse de Parnia E forse la Caisse de Parnia Adesso Comincia A dubitare Della Condizione Di Contador Vediamo Perché mi sembra Che stiano Orchestrando qualcosa Per Magari un attacco Di Valverde Addirittura Che ieri ha incassato Una cinquantina di secondi Di ritardo Dalla sua Connazionale Leader dell'Astana Oggi potrebbe andare All'attacco Grande tappa davvero Di Moncutier Invece Che resiste Si perde terreno Ovviamente È stato a lungo in fuga Con altri quattro uomini Per quasi tutta la tappa Ecco che è partito Ecco che è partito Alberto Contador Ci toglie tutti i dubbi Lo scatto secco Di Alberto Contador Il vincitore del Giro d'Italia Un'accelerazione furibonda Con Valverde Che è l'unico Che resiste All'accelerazione di Contador Guardate La facilità Con cui accelera Insiste Insiste Si siede Valverde Questa è una tappa pedalabile Più adatta forse A Valverde Che a Contador Ma guardate Non si è ancora seduto Incredibile Uno scatto Di almeno 500 metri Con cui ha guadagnato 200 metri Sul gruppo di Leipheimer E degli altri Gesink E Sastre Cercano di rispondere Ma è dura Tanto sta facendo Comunque dei danni Gli ha sparpagliati Davvero Lungo questa salita Alberto Contador L'accelerazione Che aspettavamo Valverde Molto bene Nella sua scia Però rimane lì Guarda Rimane lì Con un rapporto Molto più lungo Di Contador Mi sembra attaccato Al manubrio E sta arrivando Anton Credo Per l'Euscaltele Euscadi E qui abbiamo Il gruppetto Di Leipheimer Con Moschera Eccoci qua Siamo nella scia Allora di Valverde Di Igor Anton E di Alberto Contador Tre spagnoli All'attacco Tre uomini Di classifica Importanti Anton Lo vedete A 3 minuti 17 secondi Di ritardo In classifica generale Valverde Con un rapporto Molto più lungo Riparte Contador Riparte secco Alberto E questi sono scatti Che Sono lunghi Perché non è che Non si volta neanche E prosegue per almeno 200-300 metri Impressionante Anton perde di nuovo Contatto E rientra in progressione Attenzione Perché Anton Ha scelto Scientemente Di Non rispondere A differenza di quello Che fa Valverde Che ovviamente Non vuole dare a Contador Nemmeno un metro Perché poi Se no Contador Proseguirebbe Con una grande progressione Se invece Contador Si trova a ruota Valverde Potrebbe anche rallentare E Anton Potrebbe rientrare Nuovamente Ovviamente Sono scelte tattiche Per cui Contador Sta facendo male Guadagna un metro Su Valverde Che è in punta di sella Adesso Sta soffrendo Per resistere Alle accelerazioni Di un grandissimo Contador Mamma mia Che scatti Contador Fa paura E qui Sastre Invece Che non ha Assolutamente Questi cambi di ritmo Si Le manca qualche Qualche dentino Perché deve mettere Qualche rapporto in più Se vuol fare La differenza Con Valverde Grande Ghesi Che comunque Che è lì Anche perché questa Di grandi pendenze Su questa salita Non ce ne sono Ecco che arriva Anton Vedete La scelta di Anton Probabilmente Non è che ha un'altra Non è che poteva scegliere Di rimanere lì Evidentemente Anche lui è al limite Perché qui Contador È Contador ragazzi Stiamo parlando Di uno dei più forti Corridori del mondo Forse il più forte Scalatore del mondo In questo momento Quindi è chiaro Che quell'accelerazione Può anche non avere La forza di tenerla Però Saggiamente Non fa nemmeno lo sforzo Per dieci metri in più Decide di proseguire Col suo passo Avete visto che Anton è rientrato È una scelta Che potrebbe premiarlo Se questi tre Dovessero arrivare Poi Al traguardo Vedremo Perché con Contador E Valverde È molto 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 dura Per chiunque Però Tre chilometri Intanto per il Battistrada Moncutì È partito il cronometro L'Euscantel 300 metri Moncutì Ha finito la salita E siccome ha ancora Circa 38 secondi Può anche farcela Può anche farcela Incredibile Davvero Bravissimo Moncutì Guardate la fatica Sa che siamo Agli ultimi metri Di grande fatica Poi potrebbe Trovare le energie Dietro Verosimilmente In pianura Contador Sarà meno scatenato Però vedete che Non sono lontani Non sono lontani Perché le accelerazioni Di Contador Non hanno Non hanno fatto Malissimo Esatto E quindi E quindi si è riportato Sotto Valverde Antone Lui a questo punto Ha rallentato un po' Ecco che scollina Ecco che la strada spiana Dai 2500 metri Al traguardo La strada spiana Qui c'è il Gran Premo Della montagna Eccolo qua Parte il cronometro Dovrebbe avere ancora Una trentina di secondi Su Contador Valverde Antone E poi arrivano Moschera E Gazing No Gazing Che forse è un pochino Più indietro Contador non ci sta Riparte ancora Ma questa è pianura Qui Valverde Non dovrebbe avere Grandi problemi A rimanere a ruota Contador Questo è uno scatto Un po' di frustrazione Di Contador Credo Infatti resiste Eccoci su David Moncutier Invece che davanti Sembra aver coronato Con una grande tenuta Sull'ultima salita Sai che non me lo aspettavo Perché dietro Sono venuti su Veramente forte 35 secondi Si è difeso alla grande David Moncutier E veramente La Francia Ottiene un risultato Alla vuelta Importante Con David Moncutier Dopo aver vestito La maglia oro Con Sylvain Chavanel Nei giorni scorsi E qui c'è Sastre Vediamo Che ha stretto i denti Come al solito Alla sua maniera Ed è presente Nel gruppetto Di Leipheimer Quindi comunque Si è difeso bene Due chilometri Alla conclusione Dell'ottava tappa Del Giro di Spagna Amici sportivi Sempre il francese Della Cofiliss David Moncutier Alla caccia Del suo primo successo In carriera Sulle strade Della Volta in Spagna Lui che ha già vinto Due tappe Al Tour de France Moncutier Quest'anno ha vinto Una tappa al Tour Ed è stato decimo Nel classico Di San Sebastian No quest'anno No Ha vinto lo scorso anno A Digne Le Ben Aveva vinto A Figeac Nel 2004 Quest'anno decimo A San Sebastian Nel risultato Di maggior rilievo Della stagione Di David Moncutier L'abbiamo visto Andare all'attacco Già sulle strade Del Tour Senza successo Adesso ci ha provato Qui alla Vuelta E sta per coronare Vediamo Manca ormai Un chilometro Il sogno Di un successo Di tappa alla Vuelta Contador Valverde Anton Non sono distanti Però insomma Non possono neanche recuperare Trenta secondi Nell'ultimo chilometro Grande Moncutier E sentite Lo speaker Che esalta La prova Del corridore francese Vediamo Quello che accade Dietro Stanno Arrivando Contador Valverde E Anton 4 ore 24 minuti Di corsa Per coprire I 151 chilometri Di questa ottava Frazione della Vuelta David Moncutier Ottiene Una bella vittoria Alza le braccia Resistito alla grande Al ritorno Del gruppo La media In una tappa Così Impegnativa 34,2 Una media Piuttosto elevata Contador Valverde E Anton Hanno ancora Una decina di secondi Sul gruppetto di Sastre E di Leipheimer Vediamo la volata Per il secondo posto Ci sono gli appuoni Per il secondo E per il terzo 12 e 8 secondi Rispettivamente Eccoci con Valverde Favorito In questo sprint Su Contador Che tra l'altro Ha tirato per tutta la salita E siamo allo sprint Che Valverde Credo vincerà Abbastanza agevolmente Anton Quarto Credo Di poco Quindi Valverde Secondo Poi Pochissimi secondi dietro Arrivano i compagni Di Valverde Con Moschera Leipheimer Gesink E Sastre In questo gruppo Quindi insomma Direi che la tappa di oggi Ha detto poco Per quanto riguarda La classifica Perché A parte Ballana Ma lo sapevamo L'avevamo anche previsto Che ha perso La maglia oro Inevitabilmente E a proposito Di maglia oro La maglia oro E Levi Leipheimer A questo punto Direi Senza dubbi E Levi Leipheimer Nuova maglia oro Della volta in Spagna Quindi torna In maglia oro L'americano Aveva già vestito Questa maglia Dopo la cronometro Arriva Bruseghin Arriva Bruseghin A 1.22 Dal vincitore Quindi ha perso Nel finale Una trentina di secondi Dal gruppetto Di Sastre E Leipheimer Una quarantina di secondi Diciamo Ci ripropongono Le pedalate In solitario Di David Moncoutier Bene Bruseghin Per quanto ci riguarda Quest'oggi Ovviamente non è che possiamo Vincere sempre Quarta Poi praticamente Il finale È per Velocisti E quindi Un atleta come Bennati Che oggi L'avete visto Per scelta Si è staccato Sulle prime rampe Del gran primo Della montagna Della Sima De Bonaigua Di 20 chilometri La penultima salita Di oggi È chiaro Che uno come Bennati Uno come Freire Velocisti Che tengono in salita Potrebbero essere Domani I grandi protagonisti Di questa tappa Molto nervosa Molto mossa Anche se ci saranno Sicuramente Dei tentativi di fuga Non sarà facile Controllare la corsa E chissà che Fra i Rebennati Non si seriscano In prima persona In fuga Per cui per una Quindicina di secondi È secondo In classifica generale Alle spalle Del Corridore Americano Del suo Compagno di squadra Eccola qua La classifica di tappa Moncutie Valverde Contador Anton Poi vedete A 39 secondi Quindi vicinissimi Rodriguez Daniel Moreno Oliver Zaug Levi Leipimer Davide Arroio Carlos Sastre Che si è salvato Nonostante L'ultima salita Non fosse cominciata Per lui Sotto il migliore Degli auspici E poi dovremo avere Tra poco La classifica generale Con la conferma Di Levi Leipimer Leader No questa è ancora La classifica di tappa Con Ezechiel Moschera E Robert Gesink Che chiudono il gruppetto Di Sastre Poi Gadret A 1'22 Jolie Che era in fuga Kirienka Van Golen E Bruseghina A 1'23 Nicolas Rocha Che è un ottimo corridore Sta crescendo alla grande Il figlio del grande Steven Rocha A 1'36 E via via Ci vengono Proposti Gli arrivi Di tutti i primi Trenta corridori Che si sono Già portati Oltre il traguardo Di questa ottava tappa Della Volta a Spagna Andrea Sklöden Chiude questa schermata La terza pagina Dell'ordine d'arrivo Il tedesco Che era partito Forse con Qualche speranza In più Per la classifica generale Per quanto riguarda Le ambizioni personali E la classifica generale La vedete Leipheimer 21 secondi Su Contador 49 su Alejandro Valverde 1'27 Su Sastre Il primo degli italiani Manco a dirlo Uno staccanovista Ne abbiamo parlato a lungo Nel corso della tappa Il grande Marzio Bruseghina Decimo a 3 minuti E 35 secondi Eccolo lì Primo degli italiani Nella classifica generale Della Volta E oggi Cuneco a un certo punto Si è messo a fare Il gregario di Ballan Bruseghina Sta andando meglio di tutti In casa lampra In classifica Davvero incredibile Quello che sta facendo Questo corridore Tra l'altro Domani parleremo Delle statistiche Di tutti gli atleti Che nella storia Del ciclismo Sono riusciti A disputare Giro Tour e Vuelta Perché Bruseghina Se va avanti così Rischia di essere Di entrare nella storia E di fare qualcosa Di importante Perché è stato sul podio Al giro Ha completato il tour Ed è qui alla Vuelta Davvero alla grande Splendido Marzio Per quello che sta facendo Dopo aver corso L'Olimpiede Dopo aver corso L'Olimpiede